Ben trovati a tutti e benvenuti a questo secondo B2B Lab. Ci ritroviamo con il momento che vi avevamo promesso e quindi siamo davvero felici di avere qui con noi questa sera Amadeus. Ciao Amadeus, benvenuto. Grazie, grazie a voi dell'invito, ciao a tutti, ciao. Volentieri, sicuramente verrò con mio figlio che ha 12 anni, che è super appassionato di calcio, lui è un piccolo portiere e quindi lo porterò sicuramente alla Dacia Arena, che è uno di quei gioielli, ma insomma anche la gestione di questa squadra che ha dato Natale a molti giocatori, a molti portieri ovviamente per esempio e quindi assolutamente verrò molto volentieri.